Allora, già il gruppo qua presso a noi preme, facciamo l'ultima canzone e poi... poi finiamo, poi ci sarà l'altro gruppo La prossima canzone andremo ad eseguire è Iudi Massalto parla vecchie storie a tedeschi dei briganti La voglio dedicare a Massimo L'Avetta Minera, dove sta? Massimo! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.